Questo video riguarda i migliori 3 gadget per il tuo iPhone. Il vincitore della qualità è il Backbone One Mobile. L'app Backbone è un launcher all-in-one che aggrega in un unico hub tutti i tuoi giochi e piattaforme, oltre agli ultimi contenuti, giochi e notizie, fornendo anche consigli su quale gioco giocare. L'app Backbone aiuta a visualizzare automaticamente i momenti più ricchi di azione, consentendo di visualizzare le azioni migliori con facilità, e ora supporta la registrazione di giochi a 60 fps, la registrazione degli ultimi 15 secondi e altro ancora. Ricevi una notifica immediata quando gli amici sono online e crea partecipa a gruppi in chat vocale mentre giocate insieme. Ora puoi andare in diretta su Twitch istantaneamente e condividere il link con i tuoi amici. Abbiamo perfezionato l'intero processo in modo che servano meno di 10 secondi. Utilizza il Backbone con altri dispositivi come iPad, Mac o PC per giocare a servizi come Xbox Cloud Gaming e Google Stadia. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Hulliway Bastoni Selfie. Sei stanco di muoverti o aggiustare il cellulare sull'angolo giusto quando fai una trasmissione dal vivo o un video online? Vuol catturare i momenti preziosi della vita senza l'aiuto degli altri? Il nostro supporto per fotocamera con tracciamento intelligente depotrà risparmiare moltissimi fastidi. Grazie sistema di tracciamento smart integrato, il nostro sostegno per riprese intelligente con fotocamera non ti richiede di scaricare alcun'app o di stabilire una connessione Bluetooth. Libera le mani con questo sostegno per fotocamera con tracciamento del viso automatico e rotazione a 360 gradi. Questo selfie stick da telefono include una batteria ricaricabile da 2200 ma è porta di ricarica USB. Con una ricarica completa, il sostegno per fotocamera durerà fino a 10 ore, dandoti i risultati che desideri costantemente. Include inoltre l'interfaccia standard UnQuarton che permette di montarlo sul treppiede e di regolare l'angolo di altezza per catturare facilmente risultati desiderati. Il vincitore del premio è l'Inlookies pellicola fotocamera. Inlookies protezione lente fotocamera appositamente progettato per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max 2022, non per altri modelli. Si prega di controllare il modello di telefono prima dell'acquisto. 9H vetro temperato con bordo in alluminio con texture CD ha una durata eccellente per proteggere completamente l'obiettivo della fotocamera da graffi, usura o urti. Lente in vetro temperato trasparente al 99,99% con cerchi notturni antiriflesso integrati, non solo protegge l'obiettivo della fotocamera, ma garantisce anche la chiarezza e la qualità di foto e video. La copertura dell'obiettivo della fotocamera è progettata per adattarsi alla maggior parte delle custodie basate sulle dimensioni originali di iPhone 14 Pro 6.1 e iPhone 14 Pro Max 6.7. La protezione dell'obiettivo della fotocamera è progettata con una piastra di base nera a posizione fissa, può essere accuratamente e saldamente bloccata in posizione. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.